La codifica di un diagramma di flusso è un'operazione abbastanza meccanica. Si parte scrivendo public class il nome della classe, si mette il metodo main, poi siccome qui abbiamo una interazione con l'utente, dobbiamo aprire il flusso di input creando una istanza della classe scanner. Poi l'istanza si chiama console. Poi abbiamo visto nei primi esercizi che le variabili venivano dichiarate tutte all'inizio, ma ieri sera vi ho detto che non è necessario. L'importante è che scriviate il loro tipo e il nome prima dell'uso. Ma abbiamo anche visto ieri sera che non sempre questo è possibile. Quindi qua abbiamo la dichiarazione della variabile sconto di tipo double. Il problema è quello di calcolare il prezzo di un biglietto scontato sulla base di una categoria di utenti, pensionati, studenti o disoccupati. Il primo blocco è quello che chiede di inserire il costo del biglietto. Il secondo blocco va a leggere il costo inserito dall'utente e lo mette nella variabile costo. Quindi la prima istruzione è system.auto.println, è tra virgolette la frase che vogliamo che compaia sul monitor. La seconda istruzione è quella appunto di lettura del dato di input. Attenzione perché essendo un double lo leggo con il metodo next double. Se lo leggessi con il metodo next inter non sarebbe un errore in questo caso, perché un intero può stare dentro un double, quindi non mi segnalerebbe alcun errore, ma poi sarebbe errato perché il prezzo siccome è un importo in euro, quindi una valuta ha dei decimali, io così li tolgo e faccio cifra tonda, però non è corretto. Blocco 3 è un primo if, cioè notate, se guardate il diagramma nella sua interezza, ci sono due rami. Il ramo vero che ha un sacco di roba sopra, il ramo falso che invece ha un'unica istruzione, quella del blocco 16. Quindi io cosa ho fatto? Ho scritto la prima istruzione if, blocco 3, if, e tra parentesi tondo la condizione costo maggiore di zero. Poi, vi ricordate, qua avevo messo i puntini di sospensione, quindi avevo chiuso tutto questo, avevo messo puntini, ho detto poi ce ne occupiamo, perché c'è troppa roba. Andiamo subito a chiudere il ramo vero, si chiude qui, e scriviamo subito invece la parte false, che è breve, si termina velocemente. Quindi la parte false comincia con questo else, di nuovo c'è il blocco di parentesi graph, e poi la traduzione del blocco 16 che è di nuovo una system.out.println, costo errato. Quindi se il costo non è maggiore di zero, non mi fa neanche andare avanti, mi dice subito che sto sbagliando. E poi vabbè, alla fine c'è la chiusura del flusso di input. Adesso andiamo a vedere invece cosa bisogna fare, cosa bisogna scrivere, non avevo completato questo lavoro, dentro alla parte vera dell'if più esterno. Nella parte vera dell'if più esterno c'è questo messaggio che ho tradotto così, inserisci P se pensionato, D se disoccupato, SS studente, è un'istruzione di output. Il blocco 5 di nuovo inf, quindi non sto di nuovo a ripetere, leggiamo la stringa, in questo caso quindi, ecco, quando l'utente inserisce un dato è sempre stringa. Basta usare il metodo next, non deve fare nessuna conversione di tipo. Quindi leggo con next il token, quindi la stringa presente inserita dall'utente e dopodiché passo al blocco 6, quindi sono qui, blocco 6. Il blocco 6 è un altro if, un'altra condizione. Quindi scrivo if, metto tra parentesi ton della condizione. Vi ho detto ieri, non posso confrontare le stringhe con l'ugual uguale. Allora, sul discorso inizializzazione, molti dicono che le variabili andrebbero sempre inizializzate quando vengono dichiarate, quindi bisognerebbe dar loro un valore iniziale. Questo è, secondo me, vero fino a un certo punto. Cioè, se non c'è bisogno di dare un valore iniziale, non glielo do. In ogni caso il compilatore, quando noi non diamo un valore iniziale a una variabile e invece avremmo dovuto farlo, ce lo segnala, ci dà errore e quindi ce ne accorgiamo. Qua non serve, non serve perché alla fine andiamo ad assegnare un valore a sconto in ogni situazione e quindi non incorriamo in alcun errore. Certo che se alla fine sconto, dovessi andare a stampare lo sconto e non avesse alcun valore, allora mi darebbe errore. Però non è questo il caso. Quindi, se, dicevo, le stringhe non si possono confrontare con uguale e uguale, si confrontano utilizzando un metodo della classe string. E si scrive, prima stringa, che per noi è condizione, punto equals e tra parentesi ton della seconda stringa, che in questo caso è una stringa, è un letteralty tipo stringa, quindi una stringa costante, P. Quindi se la condizione inserita dall'utente è P, andiamo al blocco 7, questo qui, che va a calcolare lo sconto, uno sconto del 10%, quindi calcola lo sconto come costo per 10 diviso 100. Poi andiamo sul ramo else di questo secondo IF, ed è questo qui. Guardate, qua è importantissimo mantenere in modo corretto l'allineamento del codice. Potete sempre allineare un codice disallineato con CTRL A, che seleziona tutto, e poi CTRL I, che allinea automaticamente. Mi chiedo, la condizione è uguale a S? Quindi se non è P, vediamo se è uguale a S. IF condizione punto equals S. Se è vero, vado a calcolare lo sconto del 15%. E sono qui al blocco 9. Poi uscendo, il blocco 9 termina, il ramo vero di questa condizione 8 termina, vado sul ramo falso, quindi mi sposto sul blocco 10. Dove? Sempre qua, sono ancora sul ramo falso della condizione uguale a S. Quindi sono sempre qui. Quindi else. Apro la graffa, invio, si chiuda, così non sbaglio. Dentro ci vado a mettere quello che c'è sul ramo falso. Se il suo ramo falso c'è un altro IF. Quindi IF, aperta tonda, metto anche il numero del blocco. Blocco numero 10. IF, condizione, punto equals D. Allora, apro di nuovo una graffa. Invio così si chiude. E sul ramo vero di questa condizione 10 c'è il calcolo dello sconto del 25%. Quindi faccio copia e incolla. Incolla. È il blocco 11? Sì. Questo è il blocco 11. Si chiude il ramo vero. Quindi sono qui, dopo questa parentesi. E c'è il ramo falso, ancora un else. Else. Sconto uguale a zero. Per un problema tecnico, la registrazione è saltata, quindi riprendo da qui. eravamo arrivati al blocco numero 11, quindi con lo sconto del 25%. A questo punto si chiude il ramo false, anche della condizione uguale a D. Si chiude tutto il ramo false, anche a partire dalla condizione uguale a P. e possiamo proseguire con i blocchi 13, 14 e 15. Con il blocco 13 andiamo a stampare lo sconto, con il blocco 14 calcoliamo il prezzo come costo meno sconto e poi, infine, produciamo in output il prezzo. Altrimenti abbiamo l'ales appunto del costo errato. Ne approfitto anche per far vedere una versione di questo codice che potrebbe essere, o perlomeno è dal mio punto di vista, un pochino più leggibile. Vado a creare un ulteriore package, lo chiamo biglietto 1, quindi tasto destro del mouse, New Package, biglietto 1, copio questo codice, questa classe, questo file dentro biglietto 1, ecco, allora riscrivo questo codice senza modificare ovviamente la logica del programma, ma semplicemente adottando un'altra metodologia di scrittura. questo IF può essere messo vicino all'ELSE, per cui vado a mettere questo blocco 8 qui e sposto questo qui vicino. quindi posso scrivere ELSE IF invece di fare, di scrivere l'IF sotto l'ELSE. Partiamo di nuovo con un ELSE e di nuovo ELSE IF ho tolto un po' di parentesi graffe, chiuse, ed ecco voi, quindi lo stesso codice è scritto in una maniera dal mio punto di vista più leggibile. Inoltre, un'altra osservazione può essere fatta relativamente a questa variabile sconto. Questo blocco ELSE può essere rimosso se vado ad assegnare alla variabile sconto il valore iniziale 0 perché? Perché quando arrivo qui a questo punto e tolgo via l'ELSE quando arrivo a questo punto se nessuna delle condizioni precedenti è vera lo sconto comunque vale 0 e quindi non c'è bisogno di assegnarlo. Facciamo una prova inseriamo 100 P ed è corretto. Facciamo ancora un'altra prova inseriamo un costo del biglietto sempre 100 e una lettera che non c'entra nulla la A lo sconto è 0 e l'ultimo test che facciamo è con un costo del biglietto negativo o nullo 0 costo errato è un costo del biglietto è un costo del biglietto un costo del biglietto